Buongiorno, sono Sandro Paganotti e oggi parliamo di Custom Elements I Custom Elements sono una specifica HTML5W3C che ci consente di creare e costruire elementi dal tag e dai comportamenti personalizzati Questi elementi possono essere utilizzati nel nostro sito internet o nella nostra applicazione internet e volendo possono essere anche distribuiti attraverso dei file javascript In questo esempio utilizzeremo un elemento che non esiste all'interno del tag HTML5 e normali costruito in questo modo Quindi ci immaginiamo un elemento che si chiama g-profile con uno user ID e una API key e ci aspettiamo, vogliamo implementare una funzionalità per la quale una volta specificato un rombo utente e una chiave per questo elemento vorremmo che questo elemento visualizzasse l'avatar corrispondente all'user ID selezionato sull'account di Google Plus Quindi dobbiamo fare due tipi di interventi Il primo è fare in modo che la nostra pagina accetti questo elemento come elemento alla strego degli elementi HTML5 E la seconda parte di questo progetto è quello di aggiungere un comportamento particolare a questo elemento che è proprio quello di andare a utilizzare l'API di Google Plus e recuperare l'avatar dell'utente selezionato Un piccolo appunto, la specifica è ancora molto in fase di sviluppo Per cui per vedere e provare questo esempio è necessario utilizzare la versione Canary di Chrome quindi la Chrome dalla 31 in poi e abilitare lo flag specifico che si chiama enable experimental web platform feature all'interno dei flag di Chrome Canary Una volta fatto questo andiamo a recuperare un ID di Google Plus in questo caso possiamo utilizzare il mio quindi più usando il Paganotti e lo popoliamo all'interno del nostro elemento custom e andiamo a creare una API key personalizzata per questo progetto utilizzando l'API console di Google quindi ci logghiamo sull'API console andiamo a creare un nuovo progetto e andiamo una volta creato il nuovo progetto a selezionare dal dashboard che ci viene presentata le API di Google Plus che sono presenti in pagina eccole qua clicchiamo su on e attiviamo appunto l'utilizzo delle Google Plus API per questa applicazione dopodiché ci spostiamo su API access e andiamo a copiare l'API key che è quella che ci servirà per effettuare l'accesso all'API ok a questo punto il nostro elemento è completo come informazioni ma ovviamente non fa assolutamente nulla sta a noi prima farlo accettare come elemento all'interno della pagina e successivamente dotarlo dell'interazione necessaria per far comparire gli avatar all'atto appunto del caricamento il primo dei due punti lo si risolve abbastanza velocemente le specifiche infatti prevedono un nuovo proprietario di documento che si chiama document.register e una volta invocato document.register con come primo argomento il nome dell'elemento HTML che vogliamo generare in questo caso Gprofile siamo tranquilli che l'elemento in questione sarà assimilato e gestito dal nostro browser come un normale elemento HTML in più come seconda parametro come secondo attributo possiamo specificare un prototype quindi possiamo associare all'elemento un oggetto JavaScript e possiamo andare ad associare a questo oggetto alcune proprietà che caratterizzano l'elemento in questo caso il nostro prototype si chiama Proto e dobbiamo innanzitutto inizializzare questo oggetto in questo modo quindi andiamo a costruire una variabile Proto che in realtà è semplicemente un nuovo oggetto costruito partendo dall'elemento HTML di base e andiamo a ganciarci ad uno dei callback che questa API mette a disposizione che si chiama created callback quindi created callback viene chiamato ogni qualvolta uno degli elementi custom di nostro interesse e entra all'interno della pagina in questo caso possiamo verificare velocemente il corretto comportamento di questo primo set di istruzioni utilizzando un alert questo cosa significa che nel momento in cui andiamo a lanciare questa applicazione l'elemento finisce all'interno della pagina e viene quindi lanciato il created callback per l'elemento appena inserito il case dovrebbe stampare l'alert ok come possiamo vedere la risposta è assolutamente quella attesa e l'alert del browser ci notifica che il callback è stato correttamente chiamato a questo punto la prima cosa che dobbiamo fare se vogliamo appunto recuperare l'avatar dell'utente il cui profilo è specificato nell'attributo user id dobbiamo costruire una chiamata xml http quindi ci serviranno un tot di parametri un certo numero di parametri che possiamo andare a recuperare e sono questi quindi andiamo a recuperare prima di tutto all'interno della variabile rec un oggetto xml http request che è quello che utilizzeremo per fare effettivamente la chiamata andiamo a recuperare i due attributi utilizzati all'interno dell'elemento custom quindi user id e apkey che sono quelli che servono per dettagliare la chiamata che andremo a fare e salviamo lo scope della funzione all'interno della variabile self questo ci aiuterà poi a mantenere la possibilità di manipolare l'elemento anche quando ci troveremo in funzioni diverse ok una volta fatto questo non ci resta che effettuare la chiamata quindi eseguire la chiamata verso l'api di google in questo caso il servizio che ci interessa è all'indirizzo https www.googleapi.com.com v1people lo user id che abbiamo scelto e la chiave, l'apkey che abbiamo creato poco fa inviare questa chiamata e metterci in ascolto del callback legato all'onload quindi associare una funzione alla proprietà onload questa funzione cosa fa? riceve il json generato da google plus con tutte le informazioni sull'utente e estrarre, possiamo vedere alla riga 14 estrarre in un elemento html comprendente un link e un'immagine due proprietà di questo json che sono l'url e l'immagine una volta fatto questo notiamo come in realtà questa stringa che in realtà contiene poi degli elementi html non venga inserita direttamente nell'elemento ma venga inserita in uno shadow DOM questo perché abbiamo visto nelle puntate precedenti come utilizzando lo shadow root e lo shadow DOM sia possibile costruire delle strutture html evitando che queste siano visibili e manipolabili all'interno del normale DOM della pagina quindi quello che costruiamo in uno shadow DOM se non vogliamo specificamente che lo sia rimane nascosto ad esempio alle proprietà CSS esterne piuttosto che alle manipolazioni da parte del javascript in questo caso ovviamente volendo mantenere l'atomicità del nostro elemento custom è molto importante utilizzare lo shadow DOM per evitare ad esempio che il link che andiamo ad inserire venga poi manipolato da pietà CSS che noi non controlliamo quindi creiamo una shadow root e costruiamo all'interno della shadow root questo piccolissimo html con il link e l'immagine una volta fatto questo quindi recuperate le variabili effettuata la chiamata xml http e costruito lo shadow DOM e l'html all'interno di esso abbiamo finito se proviamo ad eseguire la pagina quello che succede è che nella finestra dei risultati avremo esattamente il volto corrispondente all'avatar della persona del cui id è stato usato come attributo all'interno del tag questo significa che quella porzione di javas che abbiamo appena scritto può essere tranquillamente distribuita e diciamo l'utente lo sviluppatore che deciderà di includere nella sua pagina avrà gratuitamente un nuovo tag che si chiama gprofile con questo particolare comportamento un altro vantaggio implicito di questa particolare strategia è quella di ovviamente supportare qualsiasi quantità di elementi gprofile in pagina per ognuno dei quali si attiva lo stesso identico comportamento e quindi possiamo tranquillamente ad esempio utilizzarlo per fare una collezione di avatar presenti su Google Plus piuttosto che per altri utilizzi con questo ho finito vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto alla prossima puntata grazie mille grazie a tutti